Dottore Imperiale, qual è il ruolo del neurologo nella gestione delle cefalee? Il ruolo del neurologo è sicuramente rilevante nella gestione delle cefalee, in quanto la cefalea, come è noto, è una patologia estremamente diffusa nella popolazione e in cui c'è anche una elevata tendenza all'autodiagnosi, all'autoterapia, con tutte le conseguenze negative che questo tipo di atteggiamento può portare. Il neurologo è importante perché distingue le cefalee pericolose da quelle che sono le cefalee non pericolose e quindi può impostare quello che è l'iter diagnostico più corretto e arrivare a una classificazione corretta del disturbo cefalalgico. Solo la classificazione corretta del disturbo cefalalgico ci consente poi di impostare una terapia adeguata per quel paziente, una terapia che chiaramente deve essere tagliata sul paziente. La terapia generalmente si basa su due cardini, cioè la terapia dell'attacco acuto e la terapia che previene la ricorrenza degli attacchi. Ed è in questo che è estremamente importante la figura specialistica che si occupa di questa patologia proprio per evitare che delle forme che potrebbero essere tranquillamente trattate con dei farmaci vadano incontro a delle cronicizzazioni così importanti da risultare poi delle situazioni alla fine intrattabili.